sono chas flaminio faccio il bartender e sono il bar manager della generia legale di rimini vi andrò a presentare in questi video alcuni dei miei drink e vi farò vedere come si fa un tea tonic con dosi e preparazioni vi farò vedere come si fa un buon americano con dosi preparazioni e anche un minimo di storia di alcuni drink di alcuni di questi vi andrò a far vedere come farò sia la preparazione sia le dosi ma anche un minimo di storia poi vi farò vedere come si fa uno spritz un negroni lo stesso margarita ma anche il tomis margarita abbiamo il daichiri e la caipirigna poi ci sarà un'altra categoria c'è la categoria dei moscomule che vi andrò a far vedere con le tipologie di mag che si possono usare ma anche il dice un minimo di storia un altro minimo di storia c'è nella caipirosca e poi a finire vi farò vedere come si fa un mio mai tai con twist on classic nel mai tai al mango che si può usare ma anche il tipo di storia di mag che si può usare ma anche il